Una nuova denuncia del Movimento 5 Stelle questa volta è diretta alla Regione, ovvero agli eletti. Si parla di inciusio in questo caso, ancora non sono stati ufficializzati tutti gli eletti e soprattutto le cariche da loro ricoperte. In questo caso cosa vede il Movimento 5 Stelle? Dunque, noi crediamo che essendo il Movimento 5 Stelle la prima forza politica di opposizione debba ricoprire all'interno delle istituzioni regionali dei ruoli fondamentali. Al momento, dalle indiscrezioni che stiamo ascoltando a mezzo stampa, parrebbe che centrodestra e centrosinistra stiano già accordandosi per la spartizione di eventuali ruoli importanti istituzionali, in particolar modo la vicepresidenza del Consiglio e la presidenza della Commissione di Vigilanza. Noi crediamo che queste due cariche, essendo il Movimento 5 Stelle la prima forza politica di opposizione, per garantire un'opposizione dei controlli reali sull'operato del Governo regionale, debbano aspettare appunto al Movimento 5 Stelle. Parlando di legge elettorale, invece, la proposta della doppia preferenza di genere? Io ritengo che le quote rosa o la doppia preferenza di genere siano umilianti per le donne in generale, perché le donne dovrebbero dimostrare le proprie capacità autonomamente, pari opportunità per noi vuol dire pari condizioni di partenza e poi si va avanti. E quindi i candidati del centrodestra e centrosinistra sono stati scelti in base a criteri, come dire, di portatori sani, diciamo così, di voti, e le donne sono state messe soltanto come riempilista. Dobbiamo cambiare un po' mentalità e le donne devono capire che bisogna cambiare, bisogna lottare per avere una legge elettorale equa e non le riserve indiane all'interno delle leggi.